Allora, buonasera ragazzi, buonasera Sara. Ciao. Io, Sara, secondo me si ricordano un po', un po' si ricordano che di te tempo fa avevamo fatto un video. Probabilmente sì, però avevo una voce diversa. Oddio ragazzi, è vero? Perché ce l'ha stato un problema con l'audio, in realtà la mia voce non era quella. Siccome io e lei, siccome ragazzi in quel video, in quel video avevamo superato i like, come lei, io so che tu giochi a Fortnite, ogni tanto via di video. E di tanto sì, ok. Sì, perché come sapete lei ragazzi fa video in ASMR e quindi ho detto, allora ascoltatemi bene, insegneremo, insegneremo qualche trucco, insegneremo bene a giocare a lei e fatemi sapere se effettivamente vuoi essere, quindi vuoi essere allenata da me? Vuoi essere allenata su Fortnite? Sì, 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 un po' di ansia, un po' di ansia. Hai un po' paura, no? Tranquilla, sono scarsissimo, tranquilla. Io dico? Sì, sì, vai. Allora, se questo video possa arrivare a 10.000 like ragazzi, e ve lo prometto, il prossimo video che farò con lei, che non sarà tra tanto, sarà una sfida ASMR tra me e lei. E ve lo dico ragazzi, io spero di non arrivarci, ve lo dico eh. Lo so perché l'altra volta si era un po' addolmentato. Sì, ma sei tu che devi insegnare, poi sei tu che devi insegnare a fare ASMR. Quindi adesso mi insegni Fortnite e poi insegno l'SMR. Oh mio Dio ragazzi. Vabbè, vediamo, magari dai che ci arriviamo dai. Sara, ci sei? Sì, ci sono. In questo video andremo avanti, perché tu non riuscirai a fare almeno una kill, o direi addirittura anche due, va bene? Verrà tantissimo questo video. No, 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 con i miei consigli adesso ti assicuro che una kill la farei anche su... Guarda, appena scendiamo, fa una kill, vedrai eh. Direi che devi avere un posto abbastanza tranquillo. Hai già trovato il Jug Jug, ah, quindi te ne vai full. Tra l'altro sto skin ti assomiglia un sacco. Ah, hai visto? Perché adesso hai capelli rosa, seriamente. Ma ragazzi, ma... Ma guarda te! Sto male, vabbè. Ok, allora qua c'è gente, occhio, allora. Aiuto. Dobbiamo fare scale e salire, dobbiamo star lì sopra, ok? Seguimi. Ok. Fai scale con me così, vedi? Ogni tanto però non troppo alta, occhio eh, che ti fanno cadere. Seguimi, eccoli qui. Oddio, questi non sono anche scarsi. Oddio. Sì, non sono scarsi, occhio eh. Dove sono? Uff, arrivo io? Arrivo tranquilla? Continuo a farli 28. Ok, a posto. Eh, questi erano più fortini. Eh sì. Vabbè, questa era la prima... Non è male come inizio, non è stato male. L'obiettivo... Allora ragazzi, l'obiettivo è che lei faccia le kill e io vi giuro che adesso la faremo. Dai, proviamoci dai. Sai cosa ti dico? Andiamo, vai. Esatto. Ci dobbiamo provare. Tieni il pompa adesso, appena vedi uno, devi sparare lì col pompa, ok? Ok. Ok, fai la box come ti ho detto prima, fai la box come ti ho detto prima. Aspetta. No, era qua. Arrivo, 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 arrivo. Oh, ho fatto la kill. L'hai fatta? Gigi! L'hai fatta ragazzi? Ce l'ho fatta. Oh, ti ho fatto male? Eh sì, un po' sì. Teniti, cildini. C'è gente qui? Ci penso io a questo, ci penso io. Adesso ci muoio sicuro. Dov'è? È su, secondo me. Lo sento qua su. Ecco, ok. Eccolo. 50. Ok, è ucciso. Ok. Vai, andiamo, 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 andiamo. C'è una jump qua, vieni a prenderla. Vieni con me, seguimi. Saliamo di qua. Segui le mie scale, vieni. Dio, non so se posso salvarti, sai? Sì, sì, vai. Ma che è? No, mi sa che non riesco, non riesco, non riesco a salvarti. Non ho materiali. Io sono volata nella tempesta. Sono caduta giù. No. Dai, dai, dai. Non c'ho mazze. Aiuto. Se tu non me la vinci, la vinci. No, non posso, non c'ho materiali. No, eh, vabbè. Fa niente, fa niente. Questa era di prova, ragazzi. Oh, però, una kill l'ho fatta. Una kill l'ho fatta, però. Ah, sì, lo vedo. Ok, allora, seconda partita, ragazzi. Questo qua ci penso io, questo. Dov'è? Ce l'ho già ucciso, tranquilla. Via tu, sparisci. Che dove segnali a giocare a Fortnite. Via. Fatti una jump. Vieni con me. Pusciamoli aggressivi, questi. Vieni con me qua sopra, sempre a stare in altezza. Sì. E vai con l'assalto, ora, eh. Dio, quello al cecchino. Un ucciso. Uccisi. 20 a 1. Vai avanti con le scale, vai avanti con le scale. Occhio, che ti sparano, se no. No, è lì, è lì. Ok, io salgo sopra, eh. A lanciarazzi, uno, occhio. Oh, oh, oh. È qua, è qua. Eh, arrivo. No. Uno è bianco. 38 a 1. Ci penso io, ci penso io. Questi qua ve lo lanciarazzi, non era facile. Oh, però, ho due colpi. Due colpi, bravissime, bravissime, va bene, va bene così per ora. No way, cosa lanciarazzi davvero. Un ucciso. Tranquilla. Ci penso io. Non provateci mai più. Vieni qua, vieni qua che ti rialibbo. Vabbè, scusa, ma come... Mi hanno trattato male. Ma come fai a imparare, cioè, scusa, questi con il lanciarazzi, ragazzi, lo vale. Ok. Oh, comunque, due colpi li hai tirati, sei stata brava qua, eh. Eh, infatti. Sei stata brava, ragazzi. Non dove lui, un po' più spostato. Dove tu pensi che possa andare. Oh, 40k. Hai preso? Comunque questo non è il cicchino, eh. Vabbè, ci penso io a questi. No, non ci credo, ho preso dare la caduta. No, ho preso dare la caduta, non ci credo. Ma no. Allora, ultima partita questa è la vinciata, perché lì è stato un mio errore. È stato assolutamente un mio errore, ragazzi. Madonna, che figuracce che ho fatto. Ma la sento che questa va bene, comunque. Per te questa sarà quella giusta, va bene. Adesso vediamo. Adesso vediamo. Uno distrutto. Lo puscio subito, eh. Vieni con me, vieni con me, pusciamoli. Hanno lanciarazzi, anche loro, ma che sfiga. Oddio. No, non sono male. Eh, questi non sono male, hanno anche lanciarazzi. Spesso io. Ma piglia, lo sono. Hai scappato? Aspetta che torna qui. Oddio, la fate davvero. No, non sono male. Che fatica. Oddio, che fatica. Ma te... No, sei morta. No. Vabbè, ma che sfortuna, ragazzi. Tutti i collagiorazzi, cioè, non potete far niente qui. Vabbè, ma come... Scusa, ma qui come... No, ragazzi, ma come faceva? Dai, poverina. Vai, ritiamo. Allora, appena ritti, ha preso il teplano, eh. Oddio, questi sono forti. Eh, qua mi sa che è venita. Io ci ho provato. Occhio, bossati, se riesci, vieni da me. Vieni qui. Oh, spottati, spottati, dimmi così. Vieni qua, dentro, vieni da me, vieni da me, vieni da me, vieni da me. Vieni qua. Entra, entra. Ok. Facciamo così. No, un'altra. Spottati. Oddio. Eh, qua è difficile. Eh, qua è difficile. Basta, ma quanti erano! Io non capisco di... Eh, tirano quei cosi che da fastidio. Oh. Oddio. No, vabbè. Mi sa che ho pure finito le mazze. Eh, qua è difficilissimo. Vediamo così? Vole accendere questo. Ma io sto... Oh, te stai cavando, però, eh. Eh, sì, ma più che altro che non... Oh, manco più te, lui. Ah, lì. L'amune in alto. Ok, ok, ok. Fatto cadere? Ah, lì. Ok, ok, ok. Oddio, questo lo pusho. Eh, un po' difficile qui, eh. Ho preso ai grandi. Eh, no. Su questi, sono forti, questi, sono forti. Eh, ragazzi, bisogna guardare i creativi, è difficile se li pubblica. C'è gente troppo forte ora, lo so perché. Preso? Preso ancora? È qua. No. Eh, lo so che lì, lo so che lì. Beh, io ci ho provato. Sì, ci hai provato, te. Però, 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 sono sopravvissuta. Dai, uscite. Ok? Ci penso io, ci penso io. Eh, ci penso io. Dai, dai. No. L'ho ucciso, l'ho ucciso, l'ho ucciso. Ah, ok. Cioè, non ha lo stesso skill, si può... No, torri dietro, lo torri dietro, lo torri dietro, lo torri dietro, potete che l'ho ucciso, questo. Oh, sono contro... Eh. Eh, pochissimo materiale. No, peccato, vabbè, dai, ci ho provato, ci ho provato. Eh, ero più mazzo, ero più mazzo. Vai, uno, due, tre, quattro, pavimento sopra. Beh, va bene anche i muri. Ah, super fortino, oh, bravo, ok. Quindi dovrai allenarti su questo, poi, e poi su questo. Quando sali, vedi, fai le scale così, metti anche i pavimenti sotto. Vedi che sto mettendo anche i pavimenti sotto. Eh, ma qua c'è già, c'è già, c'è già il pavimento, ok. Scala. Pavimento. Ok, dietro, ok, posso, dovrei provare a fare questo. E allenarti. Ma ragazzi, ma stai diventando bravissima, stai diventando bravissima. Ok, allora, il video finisce qui. Quindi, se questo video la serve a 10.000 like, magari ho avuto un'idea. Faremo un prossimo video. Quale? Dove faremo vedere i tuoi miglioramenti, ma in ASMR. Che ne dici? Posso che fare la sfida in ASMR? Non so, a me va benissimo come cosa. Ok, allora ragazzi, come ho detto prima. Se questo video la serve a 10.000 like, faremo un prossimo video dove vedremo i tuoi miglioramenti, ma dovremmo farlo anche io in ASMR. E lì però dovresti darvi tu a parlare in ASMR, va bene? Esatto, e quindi ci rilasseremo tutti. Esatto, ci rilasseremo tutti. Allora, ringraziamo Sara per essere venuta qui, vi lascerò il suo link del canale in descrizione, così potete seguirlo, ogni tanto porto anche lei Fortnite. Un caro saluto ragazzi. Ciao a tutti. Ciao ragazzi.